e ti saluto con la pace del signore e ti auguro un buongiorno un buon inizio di mese buon venerdì primo di settembre 2023 il signore ti benedica immensamente anche questa mattina all'inizio di questo mese vogliamo ascoltare la parola di dio io uso questo termine vogliamo perché non siete solo voi che ascoltate la parola di dio ma mentre che io la leggo per darla a voi la ascolto anche io quindi vogliamo insieme ascoltare il consiglio che viene da parte del signore che questa mattina viene rivolta ai nostri cuori in questi termini perché se uno è ascoltatore della parola di dio e non esecutore è simile a un uomo che guarda la sua faccia naturale in uno specchio e quando si è guardato se ne va e subito dimentica com'era questo testo lo puoi trovare nella lettera di giacomo capitolo 1 i versetti 23 e 24 il titolo di questa meditazione biblica è questo sulla lettera di giacomo lo specchio di dio nella vita quotidiana ci guardiamo allo specchio proprio per verificare se la nostra postura o il nostro aspetto siano accettabili e se occorre apportare le necessarie migliorie lo stesso principio si applica alla nostra vita spirituale e il nostro specchio è la parola di dio la bibbia essa descrive quello che la natura umana è capace di fare o di pensare e ci insegna ciò che è conforme o meno alla volontà di dio nella sua seconda parte il nuovo testamento ci parla del signore gesù leggere la bibbia è ascoltare dio che si rivolge al nostro cuore e alla nostra coscienza quando il re davide aveva gravemente peccato prendendo la moglie di un soldato e poi facendolo morire il profeta natan inviato da dio gli raccontò di un ricco proprietario di greggi che per preparare il pranzo a un ospite rubò l'unica pecorella di un uomo povero l'episodio indignò il re e quando il profeta gli disse tu sei quell'uomo la tua coscienza fino ad allora indifferente fu toccata consapevole del male commesso davide si umiliò profondamente e chiese perdono a dio il messaggio della parola di dio è rivelatore ci mostra ciò che onora dio nella nostra vita e ci incoraggia a perseverare ci indica anche ciò che è male e come evitarlo vi proponiamo di considerare un breve libro della bibbia molto attuale la lettera di giacomo gli otto foglietti su questa lettera ci faranno conoscere il pensiero di dio riguardo ad atteggiamenti o comportamenti che possono trovarsi anche fra noi che testimoniamo di essere cristiani chiediamo a dio di aiutarci a vivere una vita conforme alla sua volontà perché questo gli è gradito quindi come avrai ben capito questa meditazione sulla lettera di giacomo andrà avanti per otto settimane quindi dovrebbe essere ora se non vado errato ogni venerdì leggeremo un testo della lettera di giacomo e la considereremo agli occhi proprio dei giorni nostri del 2023 e la cercheremo di applicare alla nostra vita per poter imparare come abbiamo ascoltato ciò che dio vuole dai suoi figlioli dai cristiani da coloro che si definiscono credente amen gloria a dio per concludere questa meditazione fratelli vogliamo pregare per maria padalino ha avuto la polmonite un po di tempo fa ora perdonami maria se non ho potuto farlo prima ma lo faccio adesso lo facciamo adesso vogliamo pregare per lei che il signore la ristabilisca completamente amen quindi voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e pregare dio il padre nel nome di gesù cristo alleluia signore padre santo dio nostro vogliamo ringraziarti con tutto il cuore per la vita che ci ha concesso anche oggi e ti ringraziamo perché al principio di questo mese di questo nuovo mese siamo ancora qui pronti ad ascoltare quello che è il consiglio della tua benedetta parola e anche questa mattina siamo stati edificati ristorati incoraggiate a camminare secondo la tua volontà aiutarci come abbiamo già detto signore perché non è semplice però sappiamo che con te io posso ogni cosa con te noi possiamo ogni cosa quindi grazie anticipatamente ti vogliamo pregare signore per maria padalino è una sorella che ha chiesto preghiera tu la conosce molto bene ha avuto una polmonite noi vogliamo pregarti signore che tu la possa ristabilire completamente e che tu possa benedire la sua vita e tu la possa incoraggiare che tu possa preservarla da ogni male e da ogni apparenza di male mettiamo la sua vita nelle tue mani e signore anche noi mettiamo la nostra vita nelle tue mani la mia vita signore la vita di tutti coloro che stanno ascoltando questo video nelle tue mani signore perché sappiamo che le tue mani sono buone sono dolci sono amorevoli sono calde ci riscaldano il cuore sono belle quindi ti prego abbracciaci con la te in eterno amen amen fratelli sorelle amici dio ci benedica insieme pace di gesù